Michele Pelacci fra Piccorti TV, siamo qua con Taglia Fiarra, Alfredo ti chiedo subito un commento sulla partita. No, siamo riusciti a incanalarla diciamo come volevamo, anche se abbiamo avuto qualche difficoltà, magari c'era anche qualche scoria dalla partita di mercoledì, però penso che abbiamo fatto una discreta partita, quindi l'obiettivo era quello di vincerla e ci siamo riusciti. Hai giocato 90 minuti, hai fatto il tuo primo gol, bellissimo il volo, cosa ne pensi, cosa ci dici in questo senso? No, sono contento, non era un peso ma è sempre una cosa bella, quindi sono contento per quello, sono contento per la vittoria, dobbiamo continuare a lavorare come abbiamo fatto fino adesso. Perfetto, ringraziamo il Bomba.